SONO CONTENTO CHE HA SCELTO DI TORNARE A CASA Mi presenti un futuro sposo? È tutto sbagliato Lo so che è tutto sbagliato ma tu mi piaci E io ti piaccio E anche se la situazione è quella che è Almeno potremmo darci la possibilità in più Perché non darci? Perché? La vita di un uomo e nessuno è mai Aprite! Aprite! Aprite!